I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you I want you to know me cause I know then you'll see we could be true Ciao ragazze, bentornati sul canale Oggi il nuovo video è come vedete un video ultra glam, ultra glamour Che è un video per capodanno in collaborazione con una ragazza carinissima Che ho contattato e ho sentito su Instagram che si chiama Gloria Carbonetti Ha un canale anche lei qua su Youtube Abbiamo deciso di collaborare perché volevamo creare insieme Dato che siamo entrambi appassionati di make up Un make up adatto per l'ultimo dell'anno 2017 Con all'interno come cardine principale, punto principale i glitter Stavolta ho deciso non di applicare sulle labbra ma densi sugli occhi E ho deciso di fare questo trucco appunto partendo dai toni dell'oro Anzi dello champagne per arrivare poi ai toni del rosa antico E con questa sfumatura molto molto evidente Spero davvero che vi piaccia Ovviamente vi lascerò giù nell'info box il video di Gloria Così potrete andare a vedere anche la sua versione di questo look per capodanno Bando le cianci, cianci le bande Se volete vedere come realizzate questo make up Non vi rimane a guardare fino alla fine di questo video A dopo! Io ho già fatto la base e anche le sopracciglia per accelerare un attimo il trucco E non fargli un trucco troppo lungo Come primo step andiamo ad applicare questi patch sotto gli occhi Essendo un trucco che prevede dei glitter È meglio sempre coprirsi con questi patch Quindi andiamo ad applicarli Questi patch tra l'altro sono utilissimi ragazze Nel caso non avete grande dimestichezza con l'eyeliner Per andare a definire la linea dell'eyeliner e la pudina Come primo step come sapete vado subito ad applicare il primer E stavolta ho scelto un primer diverso dal solito Che è questo della HD Definition Eyeshadows Base Della NYX Quindi vado ad applicarlo sugli occhi Aspettiamo quindi che si asciughi Una volta che la nostra base sarà ben asciutta Andiamo a prendere dalla palette della Zoeva Cocoa Blend Da questa palettina Il colore Popsitoed for Love Che è questo bellissimo marioncino molto caldo Andiamo a prelevarlo un pochino con un pennello da sfumatura E andiamo ad applicarlo nella piega Successivamente andiamo a prendere questo color nero Che è un nero non troppo oscuro Sempre dalla stessa palette Che si chiama Beans Are White E andiamo a prelevarlo un pochino con un pennellino Sempre la sfumatura ma un pochino più piccolo Un pochino più preciso Andiamo a prelevarlo veramente pochissimo E andiamo ad applicarlo verso la fine dell'occhio E andiamo a sfumarlo solo in quella zona Portandolo un pochino verso il centro E proprio andando ad applicarlo E ad intensificarlo Solo verso l'angolo esterno Una volta ottenuto questo effetto Andiamo a prendere una matita Io in questo caso ho scelto una matita per le labbra Come base cremosa da applicare proprio sull'occhio Per andare poi a mettere i glitter E nel mio caso ho scelto la Lip Gloss Pencil della Kiko La numero 06 Che è questo rosa con i brillantini antico Molto molto carino E andiamo ad applicarlo al centro dell'occhio Solo al centro dell'occhio E andiamo a sporcare molto delicatamente Leggermente la sfumatura che abbiamo fatto in precedenza Per andare ad illuminare invece l'interno dell'occhio E quindi la parte iniziale del nostro occhio Andiamo a prendere questo ombretto della Essence Essence Matte Glam Eyeshadow Il numero 07 Golden Up Che è questo bellissimo colore champagne E andiamo ad applicarlo proprio solo all'interno dell'occhio Finalmente si passa quindi alla parte centrale del nostro trucco Quindi all'applicazione dei brillantini E come sapete io utilizzo sempre questo Fix Gel Che avevo trovato su Ebay Penso Che costa veramente pochissimo E lo vado ad applicare sia nella parte centrale dell'occhio Sia nella parte iniziale Dove siamo andate a mettere il colore champagne E una volta che abbiamo applicato il nostro Fix Gel Andiamo a prendere questi pigmenti Sono di questo colore rosato Con all'interno dei brillantini color dorato Mi piace veramente Matteo E questo rosa antico con questi glitter All'interno dorati sono fantastici E andiamo a prelevarli sempre veramente molto molto pochi Con un pennellino piatto Come questo Andiamo a prelevarli veramente pochissimi E andiamo a depositarli E a picchiettarli Proprio nella parte centrale del nostro occhio Ripetiamo la stessa cosa Sempre con un pennellino piatto Ma stavolta Con questi bellissimi glitterini E pigmenti glitterati Della P.S. Ice Pigment Io questi in particolare li ho trovati da Primark Che costano veramente pochissimo Secondo me sono stupendi Che sono sempre di questo colore champagne Quindi anche in questo caso Andiamo a prelevarli veramente pochissimi E anche in questo caso Con un pennellino piatto Andiamo a tamponarli E a prelevarli E poi ad applicarli Ma stavolta Nell'interno dell'occhio A questo punto andiamo a prendere Un eyeliner E io ho scelto questo Della Miss Broadway Che ha una punta Molto molto sottile E andiamo a creare Una linea di eyeliner Con una codina Abbastanza importante Una volta terminate le nostre linee di eyeliner Andiamo ad illuminare L'arco sopraccigliare Con questo illuminante Nel mio caso Quello della Kiko Milano Il numero 01 Metal Shine Eyeshadow Che è questo bellissimo colore Tra lo champagne e il rosa antico A questo punto che la nostra sfumatura è fatta Possiamo andare a togliere i patch E come vedete Togliendo i patch Non solo non avremo dei brillantini Sotto tutta la zona degli occhi Ma anche la linea Dell'eyeliner E quindi la sfumatura Sarà molto molto precisa E molto molto netta Che è proprio l'effetto che volevamo A questo punto con un concealer E io uso sempre questo della Nars Perché sapete che ormai Lo amo Lo adoro Che è il numero Medium 1 Cool Start Vado a ridefinire E a togliere un po' di occhiaie Ma soprattutto A definire bene La zona degli occhi Lo vado ad applicare Sempre con il mio pennellino Prendiamo poi Sempre lo stesso colore del nero Che abbiamo utilizzato Per la sfumatura E con un pennellino angolato Andiamo a sporcare La zona sotto La rima interna Dell'occhio Però solo fino A metà occhio Non andiamo fino in fondo Andiamo sempre a riprendere Poi l'illuminante di Kiko E con le dita Andiamo ad applicare Solo all'interno Proprio Della zona Iniziale Dell'occhio All'interno Proprio dell'occhio Vicino al condotto lacrimale L'illuminante Per quanto riguarda gli occhi Come ultimo passaggio Vado a mettere Il mascara Uh Vado a mettere il mascara E stavolta ho scelto Un mascara che a me Fa impazzire Perché cambia Completamente le ciglia Che è questo mascara Della L'Oreal Paris Il Fox Chill Superstar X Fibre Infatti contiene all'interno Delle fibre Come potete vedere Ha due parti La prima parte Come vi ha all'interno Un colore Mentre la seconda parte È quella che va Ad applicare le fibre Quindi Andiamo a prendere La prima parte Quindi andiamo a prendere La successiva parte La seconda parte Che contiene appunto Le fibre E andiamo ad applicare Le fibre In modo da dare Ancora più volume Alle nostre ciglia Come potete vedere L'effetto È già talmente scenografico Che stavolta Ho deciso di non applicare Nessun tipo di ciglia finte Anche perché È già talmente bello Questo trucco Secondo me Ed è già talmente importante Che Non serve esagerare E quindi Preferisco mantenere Le ciglia In questo modo Una volta terminato Il trucco occhi Vado a prendere La Sarana Colors Ultra Blush Palette Che contiene Sia illuminanti Che blush Ma in questo caso Vado a prendere E a prelevare Per fare il mio contouring Questo colore marroncino Molto chiaro E freddo E vado Con un pennellino Come questo Piatto A creare Le mie zone d'ombre Quindi a fare Un po' Di contouring Vado poi A prendere Un colore Molto delicato Per le guance Che è questo rosa Assolutamente Molto chiaro E delicato E con un pennellino Angolato Vado ad attitarlo Infine Come illuminante Vado ad utilizzare Questo della Wicom Che a me personalmente Piace da matti È il Love Style Highlighter Che è di questo colore Rosa Molto delicato Mi fa morire E vado ad applicarne Tre puntini Proprio sotto l'occhio E un pizzico Nell'arco di cupido Quindi andiamo a sfumarlo Con le dita Per contornare Le nostre labbra E andarle a riempire Vado ad utilizzare Questa matita Della NYX La Matte Lip Liner Numero 04 E per ultimo Vado ad applicare Questo lip gloss Della Essence La XXL Nude Solamente qualche puntino Nella zona centrale Delle labbra Quindi lo vado a sfumare Con le dita E il nostro trucco Per l'ultimo dell'anno È completo Bene ragazzi Spero che questo mio tutorial Per Capodanno Vi sia piaciuto Fatemelo sapere ovviamente Giù nei commenti E tramite un bel live Io vi aspetto Come ogni mercoledì E venerdì Qui sul mio canale Mi raccomando Iscrivetevi al canale Suonate la campanellina Ma soprattutto Seguite le mie pagine Facebook e Instagram Io vi mando un grosso bacio Vi auguro Un bellissimo Capodanno E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao